Ieri sera ho fatto leggere pagine a 73 del tuo libro a mio figlio, gli ho detto vedi parla di te, ai sedicenni, Monsignor Fisichella parla dei sedicenni, gli ho detto lui stava chattando a una velocità, vedi Monsignor Fisichella che dice per la prima volta nella storia della civiltà la parola precede il pensiero. Io vengo da un mondo, tutti noi, dove invece il pensiero precede la parola, oggi vanno talmente veloce, questo è il mondo nuovo, la civiltà di internet che fa paura, questa è la pagina di Monsignor Fisichella, oggi ragazzi prima viene la parola e poi il pensiero, per noi inverte le prospettive rispetto al mondo da dove veniamo e lui mi ha detto che fa quindi questo tuo amico intellettuale, parla male di noi e io gli ho risposto no, la cosa bella è che è ottimista, dice che da tutto questo, da questo ignoto che per me è ignoto, da questo mare ignoto in cui ci stiamo avventurando, dove io non vedrò la fine ma tu si, gli ho detto Monsignor Fisichella è ottimista, pensa che verrà fuori come sempre è successo, come nella modernità dopo il medioevo, come nel medioevo dopo il mondo antico, verrà fuori una nuova capacità di sintesi e l'uomo manterrà il sopravvento, in questo caso sulle macchine. questo è l'ottimismo che si respirava stasera e la figura che lui cita di più è una figura laica e omerica, classica nel libro, è Ulisse, noi stiamo tutti partendo per l'ignoto però poi al termine di quel viaggio dell'ignoto si tornò a casa, speriamo che l'Europa torni a casa, buona odissea a tutti.